Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 28 novembre. Ariete, oggi vi sentirete molto più in forma e sarete pronti ad azzerare il lavoro lasciato in sospeso nei giorni scorsi. L'amore riesce a darvi un sostegno importante. Toro, evitate le polemiche, soprattutto sul lavoro, dove questa luna vi rende particolarmente permalosi. In serata, meglio rimanere in casa in tutta tranquillità. Gemelli, sarà una giornata ricca di fortunate opportunità per concludere affari di notevole importanza. In amore, meglio lasciare al partner il timone del rapporto. Cancro, seguite l'istinto perché ultimamente con le parole non riuscite ad essere efficaci. Sul lavoro, oggi sarete efficienti. In amore, però, non dovete chiudervi in voi stessi. Leone, con un po' di pazienza, riuscirete a risolvere un problema che si presenterà all'improvviso in famiglia. C'è una luna dispettosa, mantenete la calma. Vergine, troppe esitazioni potrebbero farvi perdere il momento giusto in amore. Sarete titubanti a causa di qualche brutta esperienza passata. Eppure questo è un momento fantastico. Datevi da fare. Bilancia, la giornata sarà positiva grazie alla luna che vi renderà resistenti alla fatica ed efficaci nelle vostre azioni. In amore occorre un pizzico di leggerezza. Scorpione, la luna nel vostro segno può portare delle belle novità nella vostra vita. Non perdete tempo in chiacchiere e andate dritti al sodo. Anche in amore avete la possibilità di aggiustare un rapporto. Sagittario, sarà una giornata pesante sul lavoro e quando tornerete a casa non riuscirete a rilassarvi come si deve. Insomma, sarete nervosi e preoccupati. Capricorno, venere, fa aumentare a dismisura il romanticismo nella coppia e provoca anche incontri inaspettati. Sul lavoro non sbagliate un colpo. Aquario, sarete di cattivo umore. A farne le spese saranno le persone che vi sono accanto. Sul lavoro sarete molto tesi e gelosi in amore. La colpa è della luna ostile. Pesci, questa luna può rappresentare l'inizio di una nuova passione. Attenzione a non stuzzicare però la gelosia di chi vi ama. Sul lavoro cominciate a vedere i frutti del vostro impegno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.